Il ricepimento della direttiva Rimpatri è un tradimento. La legge 129 del 2011, dal mio punto di vista, è un'occasione sprecata anche per dare una sterzata sotto il profilo della tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei migranti irregolari. Si è deciso di non sottrarre la materia dell'immigrazione, in particolare la materia dell'impugnazione contro i decreti di espulsione, al giudice di pace. Rispondendo alla domanda dell'Europa, sicuramente significativo sarebbe stato attribuiamo tutta la competenza al giudice ordinario, invece così non è stato. Il giudice ordinario inteso come tribunale, scusatemi. Sicuramente mortificante è stata anche la riduzione del termine di impugnazione in materia di ricorsi contro i decreti di espulsione da 60-30 giorni, mantenendo poi il termine di 60 se lo straniero risiede all'estero. Ovviamente il verbo risiedere è usato assolutamente in modo improprio dal legislatore in questo contesto perché, salvo rarissimi casi, è impossibile che il migrante irregolare sia iscritto regolarmente all'anagrafe e quindi possa dirsi residente anagraficamente in Italia. E quindi pacificamente il termine ordinario è quello di 30 giorni. Un'altra occasione perduta dal mio punto di vista per rendere il ricorso effettivo è il non aver previsto un secondo grado di giudizio. Sappiamo tutti che il ricorso in Cassazione è un grado di giudizio eventuale, non sempre si può proporre ricorso per Cassazione, è dispendioso, è eternamente lungo. E i tempi del ricorso per Cassazione sono pacificamente inconciliabili con la necessità di una risposta celere ed effettiva e veloce del migrante che è già stato colpito da una decisione di rimpatrio. E per non parlare del fatto che ancora una volta non si è previsto la possibilità di ricorrere in via autonoma contro il decreto di trattenimento del questore per il quale è solo possibile ancora una volta ricorrere per Cassazione. Un altro aspetto che mi interessa evidenziare rispetto all'articolo 13 della direttiva, articolo 13 paragrafo 3, che evidenzia la necessità che il cittadino di un paese terzo è interessato alla facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale dove necessario deve valersi di un'assistenza linguistica. Quindi il diritto all'assistenza legale e all'assistenza linguistica è dal mio punto di vista un aspetto fondamentale nell'esercizio del diritto di difesa per il migrante colpito dalla decisione di rimpatrio. Dal mio punto di vista la legislazione italiana di recepimento ed anche quella successiva del 150 del 2011 ancora una volta rappresentano una mancata attuazione di questo principio fondamentale. Dal punto di vista dell'assistenza legale, nella maggior parte dei casi il difensore d'ufficio nominato per l'udienza di convalida viene avvisato dalla Cancelleria del Giudice di Pace un'ora prima dello svolgimento dell'udienza. Quindi non ha nessuna possibilità di incontrare prima il proprio assistito. Ancormeno, e quindi di esercitare bene il suo mandato a favore dell'assistito Ancormeno questa possibilità vi è in sede di udienza di proroga del trattenimento perché in sede di udienza di proroga viene nominato il difensore d'ufficio di turno la mattina in cui si celebra l'udienza di proroga. Quindi non il difensore che era stato nominato per la convalida e neanche il difensore che era stato eventualmente nominato per le precedenti proroghe. Quindi si può verificare la situazione in cui ad ogni proroga si presenta un difensore d'ufficio diverso che ovviamente non conosce la situazione del suo assistito e non la conosce perché il suo assistito non viene accompagnato in udienza. Quindi il difensore d'ufficio non incontra il proprio assistito non conosce nulla se non la motivazione assolutamente fittizia che viene riportata dal questore nella richiesta di proroga al giudice di pace e quindi questo comporta ovviamente una mortificazione da un lato del ruolo del difensore ma dall'altra la cosa decisamente più grave è una totale inefficacia e mancanza di effettività dell'esercizio del diritto di difesa per il migrante. Grazie. 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 Grazie.